Ho pensato di visitare questo luogo perché è come se alcune poesie ci girassero intorno. Tutto quello che noi usiamo finisce qua, tutto quello che noi carichiamo di affetto, investiamo di quotidianità, termina in questo grande cimitero degli elefanti tecnologici dove poi tutto viene smantellato, smaltito, diviso. Satelliti di un sistema solare che si disfa, di un nucleo che decade, libera particelle e perde le sue perle dai fili di orbitali. Chicchi di un ticchettio che grandinando brillano sugli asfalti occidentali. Scivola la penna verso l'inguine della pagina e in silenzio si raccoglie la scrittura. Questo foglio ha i confini geometrici di uno stato africano in cui dispongo...